Così, ma vediamo sulla provincia di Brescia, e non solo, qual è la situazione sul fronte metro. Lo facciamo con l'Arpe e con Edoardo Peroni. Buongiorno. Buongiorno. E sì, ci aspetta oggi una giornata che sarà fredda, con ampi spazi di sole alternati a passaggi di nuvole. Per restare al momento attuale, segnaliamo cielo ancora nuvoloso sulla pianura e soprattutto sui settori occidentali. Nuvoloso sulle pre-alpi, maggiore apertura invece sull'est della regione e sulle Alpi. Temperature che ora in pianura sono comprese tra meno 4 e 0 gradi, quindi con probabile presenza di ghiaccio al suolo. E per il momento è tutto, ci vediamo più tardi per maggiori dettagli. Grazie all'Arpa, lo avete sentito, sono giorni freddi e sono notti fredde queste, allora i comuni devono...